Forza nemica a l'orizonte Generatore di fumo avviato Avvistata corazzata nemica Rilasciata corazzata Avvistato cacciato scendere Concentrate fire on the enemy warship Concentrate fire on the enemy warship Requesting assistance Concentrate fire Requesting assistance Gaccia di ritorno Gaccia di ritorno La squadra nemica è in vantaggio Gaccia di ritorno Gaccia di ritorno Grazie a tutti. A tutte le unità richiedo fuoco di supporto. Nice work. 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 A tutte le unità richiedo fuoco di supporto. Rilasciata cortina fumogena. Rilasciata cortina. Rilasciata cortina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La nostra squadra è in vantaggio. Generatore di fumo avviato. La battaglia terminerà tra cinque minuti. Rilasciata cortina fumogena. Grazie a tutti. Let the enemy take the base. Affirmative. Allarme incendio. Allarme risolto, signore. La battaglia terminerà tra cinque minuti. La battaglia terminerà tra cinque minuti.